Bentornati, oggi parliamo di medicina legale. Che cos'è la medicina legale? Tanti di voi ce l'hanno chiesta. La medicina legale è quella medicina che valuta il rapporto che c'è tra un danno che subisce l'individuo, la persona fisica, ed un particolare evento che si è verificato e che in linea di massima dovrebbe essere la causa dello stesso danno. Quindi l'elemento più importante che esiste nella medicina legale è il cosiddetto nesso di causalità, cioè affinché ci sia una valutazione medico-legale c'è la necessità che ci sia il rapporto stretto tra l'evento come causa del danno che ha subito la persona. Il danno chiaramente può essere piccolo o grande, ma la causalità deve essere diretta, deve essere chiara. Quali sono i casi che affronta la medicina legale? Quelli più comuni, i quattro più importanti, i quattro più comuni sono la mala sanità, quindi quando si verifica un errore, un discorso diverso in ambito medico che determina un danno sulla persona e quindi il non raggiungimento di un particolare obiettivo, perché poi nella medicina estetica chiaramente anche il non raggiungimento dell'obiettivo rappresenta tecnicamente un danno se quell'obiettivo è stato promesso e comunque ipotizzato. I traumi stradali chiaramente, quindi tutti gli incidenti stradali sono strettamente correlati alla medicina legale perché c'è sempre bisogno di una perizia medico legale per dimostrare che c'è appunto, come abbiamo detto, il nesso di causalità e chiaramente per la quantificazione del danno. Gli infortuni sul lavoro, che purtroppo rappresentano un elemento costante ormai del lavoro in Italia, ma in generale nel mondo, vengono valutati i danni dal medico legale che non solo valuta il danno, ma anche in questo caso deve essere capace di andare a creare un nesso tra l'infortunio e il danno che la persona ha subito. Il quarto elemento che viene valutato, i quattro più importanti, poi chiaramente ce ne sono altri, sono le aggressioni fisiche. Quando un soggetto subisce un'aggressione fisica e di conseguenza un danno, il danno che ha subito la persona fisicamente o psicologicamente va quantificato dal medico legale. Quindi in generale noi abbiamo due tipi di danni, di danno che possono essere valutati. Il danno cosiddetto biologico o non patrimoniale. Che cosa significa? Il primo danno riguarda il danno fisico che non va direttamente a condizionare l'attività lavorativa. Facciamo un esempio, si rimane con una cicatrice molto evidente, si perde una mano, si vede di meno, insomma qualsiasi danno fisico o anche psicologico, ripetiamolo, che subisce una persona, ma non direttamente collegata all'attività lavorativa, viene definito danno biologico. Nel danno biologico fanno parte anche i danni cosiddetti riflessi. Cioè quel danno che si va a ripercuotere anche su persone vicine al danneggiato, che non sono state direttamente presenti all'evento, ma che indirettamente ne pagano le conseguenze. Abbiamo poi il danno invece patrimoniale, un danno che invece riguarda direttamente l'attività lavorativa, la perdita del lavoro, la possibilità di non andare più a lavorare, le spese che si vanno praticamente a sostenere per fare in modo che si possa affrontare tutto quello che è successo e quindi la diminuzione anche della capacità lavorativa. Un danno particolare è il danno tanatologico, cioè il danno legato alla morte del appunto danneggiato. Il danno morte non è risarcibile, del resto è evidente perché la persona non c'è più. Però sono risarcibili due elementi legati all'evento morte. Uno è il distacco delle persone che subiscono praticamente questa perdita appunto dal congiunto cosiddetto. Congiunto in medicina legale ha un significato molto più ampio rispetto al congiunto indesso nel modo volgare, diciamo, nella quotidianità dove il congiunto di solito è il marito, la moglie. Invece nella medicina legale il congiunto è anche il figlio, il nipote, il padre. Quindi il distacco da questa persona che muore per un errore altrui viene risarcito a colui che rimane, anche se colui che rimane non è quello che ha subito tecnicamente il danno perché in questo caso è la persona che invece è deceduta. E vicino al danno tanatologico che esiste anche un ulteriore danno che è quello della sofferenza terminale. Questo va valutato ogni qual volta la morte non è istantanea. Quindi facciamo un esempio di un paziente oppure di un incidente stradale che subisce appunto o un incidente o un errore medico ma non muore direttamente ma purtroppo nel suo percorso ha anche una distanza tra l'evento della morte e quindi si rende conto diciamo di tutto ciò che sta succedendo. La sofferenza che subisce quella persona viene in qualche modo considerata come un'eredità da trasmettere appunto agli stessi eredi. Speriamo di essere stati molto chiari e ci vediamo alla prossima. Grazie